Buongiorno a tutti, oggi è la festa della Repubblica e siamo molto contenti di festeggiarla tutti insieme perché una Repubblica è fatta da tante culture e ogni persona deve essere libera di esprimere se stessa con la massima franchezza e tranquillità. Noi siamo qui oggi a festeggiare con l'Associazione Rumena e Moldava perché vogliamo affermare l'importanza delle nostre culture di origine, delle nostre tradizioni soprattutto perché io ho 24 anni e penso che i miei coetanei di origine rumena e moldava non devono mai sentirsi tagliati fuori dai loro paesi, non devono mai sentirsi lontani da dove vengono. La mia famiglia è stata sempre una famiglia di migranti dal Veneto, dalla Calabria e penso che una delle cose più importanti sia sentirsi parte della propria comunità e sentirsi molto legati alle culture di appartenenza. È fondamentale che il Comune metta a disposizione risorse affinché le associazioni che creano manifestazioni culturali come queste non siano mai lasciate sole e che possano portare avanti progetti quotidiani, costanti perché è necessario assolutamente preoccuparsi dei ragazzi affinché l'integrazione che andiamo a costruire sia sempre più diffusa e sempre più profonda e radicata nella comunità. Grazie mille.